Un momento importante per la sanità lucana perché in pratica da quello che si è visto e che avete già visto nell'esposizione che è stata fatta a poc'anzi, in pratica si avvicina il mondo della sanità a quello che è il territorio, nel senso che gli ospedali saranno sempre più adibiti alle acuzie, quindi agli interventi necessari e più importanti, il territorio ha bisogno invece di essere rigenerato da un punto di vista di contatto con il medico. Noi abbiamo 800 medici in tutto il territorio, dal 1 gennaio del prossimo anno 2025 ci sarà un ruolo unico per i medici di medicina generale e questo sarà molto importante anche per distribuire in modo organico e razionale anche gli interventi dei medici sul territorio. È chiaro che gli interventi del PNRR fanno riferimento alle strutture, vale a dire alle strutture, gli ospedali comunitari, le casi comunitari, le CTO, le centrale operative territoriali che dovranno anche, loro stanno pian piano nascendo e dovranno essere riempiti di contenuti. I medici adesso che vedranno un'unificazione anche dal 1 gennaio con un ruolo unico avranno una ripartizione più oculata e soprattutto potranno meglio rispondere alle esigenze di una popolazione che è una popolazione costituita la maggior parte di anziani e che quindi sul territorio avrà la possibilità di avere un'interlocuzione più diretta, più immediata, usufruendo anche di quelle strutture tecniche che già abbiamo e continuiamo anche ad avere nel prossimo futuro perché potremo anche con la telemedicina intervenire in soccorso di chi ha bisogno e di chi ha necessità di avere cure immediate. Si dà centralità all'assistenza territoriale, si mettono insieme i medici sia di medicina generale che le guardie mediche che oggi hanno un rapporto di lavoro discontinuo, insieme fanno più di 800 medici, i medici sono invitati a mettersi insieme a fare delle organizzazioni funzionali territoriali come si chiamano e da garantire quindi un'assistenza 24 ore su 24 ore, 7 giorni su 7 giorni. Insomma questo esercito di amici, di angeli della salute, richiamiamo così i medici del territorio, devono aiutare le persone nella cura, nell'orientamento, nelle terapie, nell'assistenza e tutto questo secondo noi è una operazione importante, illuminata. Seguirà il contratto regionale dei medici, si attuerà la stabilizzazione dei medici in medicina generale, quindi saremo attrattivi. Un medico giovane rispetto a un contratto a tempo determinato e un contratto a tempo determinato sceglie, quindi saremo attrattivi. Quindi noi crediamo di fortificare il territorio, aiutiamo gli ospedali perché facciano il loro lavoro di cura delle acuzie, alleggeriamo i pronto soccorsi perché arrivano tanti codici bianchi che possono non arrivare, aiutiamo la proprietà delle cure, quindi pensate quando pesa la spesa farmaceutica o anche la spesa diagnostica per esami magari non dovuti e cerchiamo di costruire una regione che ha la sua orografia, piccoli paesi, 10.000 km quadrati, tutti devono poter avere una cura e un'assistenza territoriale che possa aiutare il percorso terapeutico nel modo migliore possibile.